Previsioni per martedì 20 novembre, aggiornate alle 14.30 del 19.00. Una depressione di origine atlantica posizionata sulla Sardegna ha convogliato sulla nostra regione un flusso di correnti moderatamente umide da sud-est che ha determinato condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso sul Piemonte e sulla provincia di Cuneo durante la giornata di lunedì. Da martedì la risalita dei valori di pressione riporterà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Al primo mattino di domani il cielo sarà nuvoloso. Nel corso della mattinata attenuazione della nuvolosità fino al cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con la formazione di foschie o locali nebbie sulle pianure in serata. Precipitazioni assenti. Le temperature in pianura la minima 5 e la massima 15 gradi. In montagna la minima meno 2 e la massima 8 gradi. In montagna la minima 5 e la massima 15 gradi. Grazie a tutti.